Gentili telespettatori, buona giornata. Covid dell'ondata è iniziata in Italia. Qual è la zona più colpita del nostro paese? Parlano i dati più che le opinioni. In una settimana infatti sono registrati oltre la metà dei nuovi positivi in più, ovvero il 51,8%. Attenzione, stiamo parlando di impennata dei casi, di nient'altro. Voi direte quindi? E quindi non vuol dire incacchio. Parlando di impennata dei casi, decontestualizzato, non vuol dire nulla. Se sono impennati dei casi e quindi? E quindi niente. Perché quello che conta, ve l'ho sempre detto, quello che conta sono le ospedalizzazioni. Quello è l'importante. I numeri delle persone in ospedale. Il resto è fuffa. Allora, questo Omicron 5 è il virus più contagioso che sia mai esistito, questa sottovariante. E' per forza che circola in maniera poderosa. Contagia tutti. Prima o poi la becchiamo tutti. Solo che i numeri delle ospedalizzazioni diminuiscono sempre di più. Il virus si ferma alle vie respiratorie, non va più sotto, non va ai polmoni, non va alle vie respiratorie. Quindi l'ondata in sé, lascia il tempo che trova, comincia l'ondata, va bene. Ma è solo giusto per cronaca. Comincia l'ondata di contagi. Ma quello che importa sono le conseguenze dei contagi, non tanto i numeri che crescono del 52%. Si tratta di una nuova ontata e ancora presto per dirlo, dicono. Ma sicuramente questi numeri smentiscono le previsioni di una scarsa circolazione del virus nei mesi caldi. Quanto peraltro si è deciso di togliere alcune restrizioni come l'obbligo di mascherine al chiuso. Io vi posso assicurare che i casi sono in aumento anche nei paesi dove ci sono 40 gradi da tempo. Bene, le ospedalizzazioni in una settimana sono cresciuti anche del 6,8% e in particolare dell'8,7% nelle terapie intensive. E questo da cosa è spiegato? Se voi andate in ospedale, se voi andate in ospedale per un problema, sono obbligati a farvi la prova Covid. Se risultate positivi, asintomatici, voi diventate dei pazienti Covid. Dice, ma io sono qua per il braccio. Paziente Covid. Ma non sapevo Covid. Punto e basta. Ecco, da sempre si è fatto questo calcolo. Lo sanno tutti. Si era chiesto di scorporare quelli che sono veramente in ospedale per il Covid da quelli che vanno in ospedale con il Covid. La differenza è questa. Uno arriva in terapia intensiva perché ha dei problemi con il Covid. Ha preso il Covid e è definito in terapia intensiva. È una cosa. Chi va in terapia intensiva perché si è fatto male al braccio e viene conteggiato come Covid perché gli fanno il tampone e scopre di essere asintomatico, dovrebbe essere separato questo conteggio, ma no. Il conteggio è sempre stato sommato. C'è stata sempre la somma. Naturalmente, se questo virus è così contagioso, che è il virus più contagioso di sempre, ovviamente si contagia a mezza Italia, se non di più. E allora a quel punto tutti quelli che vanno in ospedale, Covid. Uno va in ospedale per una roba, uno va in ospedale per un'altra roba, alla fine risultano tutti lì per Covid, ma sono andati lì con il Covid, spesso sapendo neanche di averlo. Non per il Covid. E pertanto con l'aumento poi della contagiosità, aumentano poi anche, seppur di poco, i numeri negli ospedali. Questa è la realtà che spesso non raccontano. Ovviamente abbiamo visto che questo Covid, essendo così contagioso, che sia stagione invernale, primaverile, estiva, che ci siano 40 gradi, colpisce lo stesso. Ovviamente poi con l'arrivo della stagione invernale, con le finestre chiuse, il freddo, questo virus andrà avanti. Ovviamente ricominceremo, come io immagino, visto che le mascherine sui mezzi pubblici vengono prorogate fino a settembre. Sono sicuro che da settembre in poi verranno prorogate le mascherine, ricominceranno a mettere le mascherine a scuola, le mascherine sugli aerei, le mascherine di qui, le mascherine nei ristoranti, e poi tireranno fuori magari di nuovo il Green Pass. Per entrare nel ristorante di nuovo il Green Pass, devi aver fatto le quattro vaccinazioni. Tutti quelli che saranno indietro si troveranno, diciamo, io ho fatto solo due, adesso qua si parla già della quinta, mi manca la terza, la quarta, la quinta. E diventerà un bel casino, perché cominceranno magari a dire, al lavoro non ci vai, se non hai il Green Pass, ma come faccio che io non ho fatto la terza, la quarta e la quinta, e devi di nuovo iscriverti, programmare tutte e tre le vaccinazioni, allora così potrai andare a lavorare. Ma allora, io spero di no, ma ho dei forti sospetti che a settembre e ottobre si ricomincerà tutto da capo. Per quello che adesso mi sono prenotato una vacanza per portare la famiglia, a famiglia, al mare. E così, dico, visto che, diciamo, andiamo magari a Natale? No, perché a Natale, quindi, non sappiamo che a Natale, che caspita, saremo lì con lo scafandro, quello da sub, con il respiratore. Ecco, visto che non sappiamo cosa ci aspetta a settembre e ottobre, andiamo in vacanza subito, anche se volevo andare in un periodo che costava meno, no? Perché andare in vacanza a giugno, luglio, agosto, è meglio andare a ottobre, dove costano bene, visto che adesso ci spostiamo in quattro, quattro volte l'aereo, insomma, una cosa è andare da solo, una cosa è andare in giro in quattro, un po' come guidare quattro macchine. Va beh, insomma, questo volevo dirvi. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata e ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video, l'ultimo per oggi pomeriggio e poi ci vediamo questa sera. Grazie nuovamente e ricordiamoci che su Tele Italia Seconda Rete ci sono dei video di politica, notizie, fai e poi tra un'oretta, due orette, poi questi video, se faccio tempo, sono condivisi non sempre nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia. Grazie a tutti e arrivederci a presto.